C'è un nuovo servizio di motosharing a Barcellona con 632 scooter elettrici Seat Mo, il marchio creato da Seat lo scorso giugno per dare impulso alla mobilità urbana. Dopo l'implementazione della Low Emission Zone a Barcellona all'inizio dell'anno, Seat offre ora un servizio di motosharing e un servizio di abbonamento con scooter completamente elettrici in città, con l'obiettivo di garantire la mobilità individuale a tutti i cittadini, anche durante i giorni a traffico limitato. Con i suoi veicoli agili a zero emissioni, Seat Mo mira a contribuire alla riduzione dell'inquinamento e al miglioramento della mobilità urbana a Barcellona, sede di Seat. L'app mobile e la piattaforma di mobilità cloud sono state sviluppate dal centro di sviluppo software Seat, code dell'azienda in collaborazione con Seat Mo. Gli utenti devono solo scaricare l'app sul proprio smartphone e cercare la moto elettrica Seat Mo parcheggiata vicino alla loro posizione sulla mappa e sbloccarla. Nella custodia degli scooter ci sono due caschi per il guidatore e un passeggero, oltre a tappi igienici monouso e salviettini igienizzanti come misura di sicurezza contro Covid-19. Inoltre, i Seat e-scooter ricevono un trattamento pionieristico sulle superfici con la soluzione Liquid Guard, un nano rivestimento che protegge i veicoli, eliminando possibili virus, microbi, batteri e funghi. Seat Mo offre anche un modello di abbonamento all-inclusive che offre agli utenti l'accesso a uno e-scooter per settimane o mesi, compresa l'assicurazione del veicolo, la manutenzione, un casco e un cambio settimanale della batteria. E tutto senza alcun impegno di tempo. Il costo è di 75 euro a settimana, 200 euro mensili e in caso di locazione trimestrale 150 euro mensili. Il modello di abbonamento è inteso per un utente e una persona aggiuntiva, come un membro della famiglia. Grazie.